Per nessuno dei suddetti interventi è stato possibile presentare istanza di ammissione a finanziamento nel termine previsto in quanto non ancora disponibile la propedeutica approvazione del progetto da porre a base di gara. Con queste parole la funzionaria responsabile della regione Puglia ha comunicato alla ASL BAT, alla ASL di Lecce e al Policlinico di Foggia che hanno perso i fondi per la costruzione dell'ospedale di Andria, dell'ospedale di Maglie Melpignano e per due interventi al Riuniti di Foggia. L'accordo per il finanziamento era stato sottoscritto infatti il 18 novembre 2020 e dava alle tre istituzioni sanitarie 30 mesi di tempo per presentare quattro progetti che complessivamente potevano godere di un totale di 335 milioni di euro di fondi. Né la ASL BAT, né quella di Lecce e neanche il Policlinico di Foggia sono stati in grado di rispettare il termine previsto. Tre su tre hanno perso il finanziamento che il Ministero della Sanità e quello delle Finanze hanno dovuto revocare per decreto. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha assicurato che non appena la regione sarà pronta, i fondi saranno ripristinati, mentre l'assessore regionale Ramo, Rocco Palese, è ora costretto a chiedere la collaborazione anche delle opposizioni. Serve una maggioranza bipartisan per prorogare questi accordi di programma in scadenza, magari nel mille proroghe, ha dichiarato Palese, appena di dover ricorrere alla più faragginosa riproposizione della procedura degli accordi. Il consigliere regionale Fabiano Amati, che per primo si era espresso sulla questione, individua la piena responsabilità dell'accaduto proprio sulle ASL. Solo nell'ambito delle burrocrazie, in particolare quelle sanitarie, non si ha la consapevolezza dell'importanza del tempo e delle scadenze, perché alla violazione del proprio dovere non corrisponde mai una responsabilità disciplinare o risarcitoria.